Ben trovati l'ATG della mobilità, da domani al 22 settembre torna anche a Roma la settimana europea della mobilità, la campagna annuale di sensibilizzazione sui temi della mobilità sostenibile promossa dalla Commissione europea. Tema dell'edizione 2024 è la condivisione degli spazi pubblici. Tra gli appuntamenti principali della settimana sono in programma la promozione di alcune strade scolassiche, l'incontro tra i mobility manager, gli eventi dedicati a chi vuole raggiungere il luogo di lavoro in bicicletta. Da segnalare l'appia dei per ciclisti e pedoni con percorso dal Colosseo e Tragitto lungo via Arco di Druso, via Parco degli Acquedotti, Villa dei Quintili e Mausoleo di Cecilia Metella. L'elenco completo degli eventi è disponibile sul sito romamobilità.it.